Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, 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 io oggi ho scaricato questo giochino Destroy All Humans e da quello che ho capito sei un marziano che devi uccidere tutti, ma non ci ho ancora giocato quindi farei un bel salto nel buio e facciamo questa nuova partita. Non so davvero cosa aspettarmi, eh? Magari è una cagata pazzesca, magari è carino. E saltiamo la voglia di riferire la storia. Eccoli. Entriamo un po' nel mood del gioco. Sì, qua chi è Nixon? We're waiting the moment when we take our first tentative steps into space. What tales will be told of that glorious day, when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Fratelli. Attenzione Attenzione Boom Come mai ha voluto fare questa cosa? Che ci ha visto? È vivo Oh no Competent fool I should never have sent you What's shaking, Pox? You look a little What's the word? Constant Let's just say I hope you turn out To be less of an evolutionary Dead end than your predecessor Julio sono lui Sono anche abbastanza bello I think crypto 136 is third of a planet Let me get this straight You sent me Crypto 136 To a hostile planet And he's disappeared Maybe captured Maybe even being tortured As we speak I met you Quindi Let me tell you Something poxy Smart But there's a time for thought And there's a time for action And this is one of those times The second one Tempo di azione ciccio Dai su Troppo parole Dai che sei il carico Come una molla Dai Ci sei Ci sei Spacca tutto I take your point E'er the mother Sheer That's what I'm talking about Tom What's the neighbor Is crummy boy Our destination The planet And then I I Facciamo Si Parte Via Missione Destinazione Terra Distrae Nemici Agenti Inclusi Per Superarli Indisturbato C'è ancora Drive-in Ambientato Qualche anno fa Mi sa Ho fatto Un'ambientazione Retro Tempo Economica Tetro Qualche Che 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 eccolo benvenuto benvenuto su terra come la parma delle mucche qui ne Ok Movimento Plastico Scansiona Vabbè L'unica cosa che dice è Mù Ha la dentro è tua eh At this time we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Uuuuuhhhh No, sta bello io Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. Aia Aia Feo I don't care how many stomachs you have I don't have time for this I don't care. Do uccidere le mucca, no perchè? Targeted object or peachy and lift it into the snap. Use P.E.K. to finish off the belligerent bone virus. Slam them in the ground. Stoic creatures. How good do you find crypto? Austin? Oh, dai. Prendono con gli umani, non con le mucca. Martha, you didn't tell me where he's having barbecue for dinner. Oh, that's right. Wait a minute, that ain't steak. It's Holy Mother of- Martha, give me the shotgun. This is the credit dog for the zap-o-matic guy that's... Aaaaaah Extracting collect the brain stem from what's left of the agriculture of the museum. Extracting collect the brain stem from what's left of the agriculture of the museum. I can consume the brain stem and collect the neuron. come on man you gotta see this they got a talking horse on the TV I ain't never seen nothing like I am not green that's very cool scudi ok intanto che hanno energia gli scudi ti proteggeranno dei danni va bene non è colpito si è un'altra rossa scrive i proiettili ok va bene ciao mi sembra vivo l'acqua danneggia gli scudi ma chi è un trattenante la gallina lasciare lì dai non so un minuto per le galline quindi così mi piace troppo bate troppo facile distruggi tutto bravo queste capanne qua si quasi è portato un po' di caos in questa tranquilla campagna ok via via tutto tutto c'è qualcuno qui dove sono? qua ah ciao amicina allora qui si sale ti rimane qui dove sei? anzi nascondono qua dove ti nascondi dove sono? tutti intorno sono non avete speranza un y assorbimento perfetto ben seccati l'abbiamo 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 un suono verde con il rispetto non avete scampo bene la prima missione è stata abbastanza semplice ho capito più o meno l'idea del gioco è uccidi semplicemente tutti è carino dai è simpatico è bello mi spiace un po' solo per le mucche ma per gli altri andava bene così dai abbiamo provato anche questo giochino qua mi sono divertito noi ci vediamo al prossimo video e vi saluto ciao